Qui a Mortegliano si vota per le europee ma anche per l'amministrativa e come state vivendo questa giornata? Speriamo in un cambiamento in meglio del futuro, insomma, soprattutto per i giovani. Votare è sempre un piacere, dare le proprie idee, allora mettiamo e andiamo a fare il nostro lavoro. La fluenza oggi come ne pare? Non so, le macchine non so se sono per il modellismo o perché vanno a votare, non so, vedremo dopo. Ma penso a Mortegliano siamo abbastanza, di solito c'è abbastanza affluenza. Pozzuolo del Friuli, cittadini dunque anche voi al voto, con che spirito? Tranquilli, sereni e sperando in qualcosa di buono. Anch'io esattamente, tranquilla, serena, con un po' di emozione, sperando in quello che penso io, insomma. Con più emozione per le amministrative o per le europee? Emozionante tutte e due, ecco. Sono andata a fare il mio dovere, basta di cittadino, è quello che devo fare. L'affluenza come le parsa finora? Molta, più delle altre volte, perché a quest'ora di solito non ce n'era tanta, invece oggi ho visto veramente tanta, c'è la coda infatti. Come state vivendo questo appuntamento elettorale, anche qui per il comune di Campoformido? È un'occasione ovviamente sia per quanto riguarda gli europei e anche per quanto riguarda il comune di fare la scelta che interessa personalmente e che può anche in un certo senso cambiare un po' le cose. Speriamo bene. Io la sto vivendo uguale a mio marito, con speranza, speranza di andare in meglio e di fare qualcosa, insomma, per l'Italia. L'affluenza come la giudica per il momento? Ma per il momento sì, ho visto un po' di gente, non tantissima, però sarà anche l'ora forse. Siamo verso l'ora di pranzo? Sì, io spero che la gente vada a votare. Comune di Pazian di Prato come sta vivendo questa giornata? Ma con attesa, con la giusta attesa e con la giusta pure importanza all'evento. È un dovere civile ed è giusto essere qua per dare il proprio contributo alla propria idea. L'affluenza come le pare per il momento? È l'ora di pranzo, insomma, che impressione ha? Mi è sembrata abbastanza alta in realtà. Ci sono state dei seggi, delle sezioni molto piene.